Il nostro telegiornale sportivo a un amico vero, un amico sincero che ho avuto la fortuna di conoscere anche perché in qualche maniera siamo coetanei e quindi ci conoscevamo già dai tempi della scuola lui al liceo scientifico, io al liceo classico e ne approfittavamo per stare insieme per trascorrere qualche ora insieme o per essere avversari in partite di calcio davvero all'ultimo sangue anche ai tempi dei campionati studenteschi di calcio sto parlando del dottor Giuseppe Bongusto di Peppino, così come lo chiamavamo noi amici confidenzialmente Peppino Bongusto è stato un uomo buono un uomo sincero, un uomo generoso un uomo che non si è fatto mai pregare quando gli abbiamo chiesto qualcosa quando gli abbiamo chiesto un interessamento sia nella sua qualità di medico sportivo sia nel periodo in cui è stato dirigente del reparto di medicina dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sempre disponibile, sempre sorridente sempre pronto ad accogliere tutti con una pacca sulla spalla e soprattutto cercare di aiutare tutti nei limiti naturalmente del suo possibile Peppino ha combattuto contro un male davvero subdolo un male che non lascia scampo si è impegnato con tutte le sue forze anche perché, come dicevo, è stato uno sportivo vero ma proprio nella giornata di ieri si è dovuto arrendere così come capita spesso a molte altre persone noi lo ricordiamo con affetto lo ricordiamo medico sociale del Campobasso ai tempi della C1 e della Serie B anche nei ritiri che abbiamo fatto insieme con il Campobasso in quegli anni d'oro lo ricordiamo medico di varie federazioni perché non ha negato mai la sua competenza a nessuno ma lo ricordiamo soprattutto sorridente e soprattutto con quel suo modo di venirci incontro di salutarci e di darci appuntamento alla prossima volta che ci saremmo visti ebbene vogliamo esprimere davvero tutta la nostra solidarietà alla moglie Antonietta ai figli Lorenzo e Michele che ci auguriamo possano continuare nel segno davvero di un genitore così generoso e così disponibile arrivederci Peppino e buon viaggio basket femminile di Serie A2 domani sera con palla 2 alle 21 la molisana Campobasso sarà impegnata sul parquet di Bologna per la gara d'andata della semifinale playoff sabato alle 18.30 al Palavazzieri il ritorno l'altra sfida è tra Civitanova, Marche e Palermo a proposito della molisana basket una delle protagoniste Giulia Ciavarella è stata la notte perfetta come ha detto anche Laura Gelnite 78 a 45 forse neanche voi vi aspettavate tanto distacco però davvero ha funzionato tutto per il merito giusto no no ce l'aspettavamo perché 0 su 3 3 partite che contavano relativamente siamo venuti fuori nella partita che contava è importante un punteggio del genere perché ce l'avevamo posto proprio come obiettivo sia il 45 che il 78 quindi è importante senti ho fatto la stessa domanda a Laura Gelnite cosa è cambiato in 48 ore perché chiaramente con una squadra con cui ha perso tre volte poi subentrano anche blocchi mentali ci sono tante cose che possono subentrare nella testa di un atlete abbiamo letto un articolo dove ci dicevano che Umberti era la nostra bestia nera per noi nessuno è una bestia nera perché noi andiamo in campo e non guardiamo in faccia a nessuno e oggi l'abbiamo dimostrato però questa vittoria può essere lo sliding door della vostra stagione era la partita che doveva farci sbloccare e ci ha fatto nettamente sbloccare tutte singolarmente come squadra era la partita che cercavamo e che dovevamo trovare a incontrare Tennis sono sei tennisti italiani in campo al Roma Garden Open torneo challenger ATP dotato di un monte prebi di circa 47.000 euro in corso sui campi in terra rossa del circolo tennis garden di Roma impegno di secondo turno per Federico Iannacone senza ranking opposto allo slovacco Kovalik numero 137 ATP sesta testa di serie il molisano ieri ha vinto 6-7 6-3, 6-4 contro lo slovacco Alex Molkon calcio di serie D campo basso e semi hanno chiuso la stagione chi con una salvezza chi con la retrocessione ancora in gioco invece l'Olimpia agnonese che domenica scenderà all'Aragona di Vasto per mantenere la categoria chiusa la stagione regolare del campionato di serie D il verdetto più amaro per l'Isernia che non è riuscita ad evitare la retrocessione diretta nel campionato di eccellenza la situazione dei Bianco Celesti era precipitata dopo la sconfitta interna con il Francavilla serviva un miracolo a Matelica che non è arrivato il Sant'Arcangelo ha vinto come da pronostico la sua gara interna con il Notaresco ormai con la testa in vacanza e nonostante un match super chiuso sull'1-1 contro la vicecapolista i ragazzi di Mister Silva hanno chiuso al penultimo posto la regular season peccato perché per impegno profuso e abnegazione dimostrata dall'inizio del campionato Fazio e compagni avrebbero meritato di giocarsi almeno una chance nei play-out così purtroppo non è stato e a bocce ferme possiamo sicuramente dire che nell'economia della stagione di Bianco Celesti ha pesato senza dubbio la sconfitta contro il già retrocesso Castelfidardo quella la gara incriminata che avrebbe portato l'Isernia in caso di successo ai play-out peccato perché a prescindere da tante occasioni sciupate la sconfitta intera marchigiana è stata senza dubbio quella che ha rappresentato il risultato negativo dell'intera annata un plauso comunque alla squadra e all'allenatore Massimo Silva come detto dallo stesso tecnico al termine della gara di Matelica retrocediamo a testa alta siamo assolutamente d'accordo il tecnico anche in considerazione del fatto che l'Isernia da calendario non ha avuto gare tra virgolette più morbide sulla carta contro squadra e ormai fuori da ogni discorso di classifica una retrocessione che sicuramente fa male perché il calcio molisano perde una rappresentante nella quarta serie sicuramente l'Isernia ha pagato un ambiente frammentato soprattutto nella seconda parte di stagione è presto per qualsiasi tipo di discorso futuro un periodo di riposo dopo un'annata stressante è necessario prima di valutare la strada da prendere nella prossima stagione all'Aragona di Vasto si deciderà domenica prossima il futuro dell'Olimpia agnonese uno strano scherzo del destino mette a confronto nuovamente le due squadre dopo la sfida andata in scena domenica al Civitelle chiusa sul 3-2 in favore degli alto molisani gara vera considerato che l'Ava stese dalla possibile salvezza diretta in caso di successo agnone è passata a chiudere al quinto ultimo posto a pari punti con l'Avezzano in virtù degli scontri diretti tra le due abruzzesi Avezzano al play-out con il Sant'Arcangelo e Aragonesi contro i Granata di Mecomonaco in casa agnonese il morale è buono l'ottima prestazione contro i Biancorossi lascia ben sperare per il play-out ricordiamo che l'unica strada per mantenere la Serie D è quella di vincere all'Aragona nei 90 minuti oppure dopo i tempi supplementari che si giocheranno in caso di parità una gara secca dove può succedere di tutto sicuramente gli alto molisani dovranno ripartire dalla grande prova di domenica senza timori e paure per cercare con le unghie di mantenere la Serie D infine per quanto riguarda il Campobasso ieri pomeriggio si è tenuta una riunione importante della dirigenza a Napoli per la programmazione del prossimo campionato nella riunione si sono discussi temi tecnici ed altre tematiche inerenti al progetto Campobasso a breve verranno rese pubbliche tutte le intenzioni della società per il prossimo futuro al vaglio i nomi che possono fare al caso del Campobasso a livello di staff tecnico e di rosa per quanto riguarda i giocatori in tal senso Musetti e Alessandro sono praticamente certi della conferma perché hanno firmato un biennale possibile anche una seconda chance per il centrocampista di Lauri questi nomi al momento come detto nei prossimi giorni ci saranno news importanti da parte della società preseduta da Nicola Circelli con i piani che non sono cambiati presentare domande di ripescaggio qualora ci siano le condizioni per carenza di società e lega pro e al contempo allestire una squadra forte per puntare alla vittoria del campionato di Serie D a proposito dei Granata ai nostri microfoni Salim Ribeiro uno dei protagonisti anche domenica scorsa nove punti nelle ultime cinque giornate hanno permesso all'Olimpia agnonese di tornare nella griglia play-out domenica al Civitelle gli alto molisani hanno ospitato e superato la vastese che affronteranno anche domenica all'Aragona per la gara salvezza nel post-gara abbiamo intervistato Salim Ribeiro Sì, sì sono molto contento della mia prestazione oggi però sono molto più contento per il risultato era importantissimo vincere era importantissimo fare questi play-out e arrivare bene credo che abbiamo fatto una grandissima partita oggi e andiamo a affrontare questi play-out con la testa giusta noi abbiamo guardato le difficoltà e abbiamo messo una pietra sopra e abbiamo cercato di dimenticare queste cose che abbiamo vissuto e cercare di guardare solo in avanti partita dopo partita cercare di vincere e fare più punti possibile è andata bene arriviamo bene per questi play-out come dicevo con la testa giusta e andiamo a giocarceli con il ritorno in panchina di mister Meco Monaco è cambiato anche il modulo di gioco degli altomolisani una nuova veste che ha migliorato anche il rendimento in campo proprio di Ribeiro sì sicuramente io nel 4-3 mi trovo meglio perché posso attaccare di più ho più libertà più per muovermi dove voglio quindi sì sicuramente il mio rendimento è migliorato e credo che pure della squadra perché riesco a dare una mano da davanti calcio a 5 di serie B il Cus Molise sabato sarà impegnato a Chieti per la gara d'andata della semifinale play-off intanto la società molisana ha vinto la coppa disciplina del girone D di serie B e soprattutto il secondo posto nella speciale classifica a livello nazionale stilata dalla federazione il punteggio fatto registrare dal sodalizio del capoluogo è frutto soltanto delle sanzioni di gioco avute nell'arco della stagione regolare nessuna ammenda nessuna diffida sono state infatti combinate alla società e al campo di gioco calcio regionali domani in campo per le semifinali play-off Roseto-Venafro e Boiano-Sesto-Campano in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e in caso di ulteriore parità accederà al secondo turno la società meglio classificata al termine della stagione regolare domenica si giocherà la finale sul campo della squadra meglio piazzata al termine della stagione il Sesto-Campano ha chiuso con una vittoria al Cannarza di Termoli Antonio Comonte il capitano di mille battaglie fatto anche gol contro il Termoli a coronare possiamo dire una stagione bella perché siete partiti in un modo poi la stagione è andata in un certo modo però la state chiudendo alla grande sì noi eravamo partiti con una squadra diversa con persone che avevano una certa esperienza poi le abbiamo perse strada facendo e c'era un brutto pensiero che era quello di dover fare un campionato per salvarci poi abbiamo avuto la fortuna di avere dei ragazzi giovani come Giannetta Verricchia che ci hanno dato una grande mano abbiamo avuto anche degli infortuni però devo dire la verità siamo arrivati dove noi non pensavamo di poter arrivare senti questi ragazzini crescono a vista d'occhio impressionanti hanno vinto due campionati di seguito ve li ritrovate fianco a fianco però meritano di stare là meritano va dato anche onore al presidente perché in questi anni è stato in grado di trovare dei ragazzi e saperli anche tenere e gestire e spero per loro che almeno per Loris possa trovare posto per qualche altra parte soprattutto qualche serie D senti siete un gruppo unito non ho mai giocato insieme da tanto mister Cecchino Papa te e tanti altri alla fine questa è la cosa più importante e questa è la vittoria del gruppo e questa è per tanti di noi una seconda casa e poi siamo una grande famiglia noi accogliamo tutti questo è forse il segreto del sesto campano ti posso chiamare dottor Giorgio Cea sì 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 mo si può mo si può da febbraio senti hai lasciato il vasto Girardi che ha vinto il campionato si è accasato al sesto c'era da lavorare hai lavorato hai realizzato anche qualche gol sul rigore belle soddisfazioni ma soprattutto l'avere raggiunto la zona playoff sì 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 la soddisfazione è molta soprattutto perché abbiamo raggiunto dei risultati veramente importanti sono venuto qui a dicembre in questa nuova famiglia e mi fa piacere che abbiamo raggiunto un risultato diciamo per certi versi storico 58 punti non sono pochi sicuramente hai seguito comunque i tuoi ex compagni il vasto Girardi hai fatto un campionato strepitoso sì 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 infatti mi sento sempre comunque abbiamo ci abbiamo molta confidenza quindi abbiamo comunicato durante questo anno quando vincevano sono stato contento anche per loro diciamo una parte anche mia me la sento mia sì senti questo campionato chiudete in bellezza questa vittoria era scontata contro il Termoli però no vabbè scontato prima della partita non c'è mai niente poi dopo insomma visto come si sono presentati anche numericamente era inevitabile diciamo che vincessimo però le partite vanno sempre giocate non è mai fatta prima del fischio d'inizio adesso c'avete i playoff però dovete giocare altre gare adesso sì muoviene il bello infatti siamo contenti e affrontiamo questi playoff con entusiasmo siamo soddisfatti per i risultati raggiunti però ancora non siamo appagati quindi ci prenderemo ancora qualche soddisfazione grazie Emanuele De Chiro comunque vada una stagione eccellente e questo è lo slogan del Baranello sì abbiamo deciso insomma goliardicamente di portare questa questa maglietta oggi anche perché era giusto festeggiare la vittoria di playoff con il distacco dei punti che ci separa dalla quarta in classifica questo è un diciamo è un premio che va ai ragazzi a tutta la società perché veramente 63 punti 63 punti sono sono tanti e ci siamo allenati bene è un capitano c'è solo un capitano un capitano c'è solo un capitano insomma questa è la sintesi è la sintesi della stagione ci siamo divertiti insomma allenati bene stavo dicendo è un premio è un premio un po' è un po' per tutti siamo legati insomma a queste alle situazioni dell'Isernia e dell'Agnone insomma per il salto di categoria però ripeto comunque vada siamo contenti del risultato raggiunto Mister all'inizio del campionato in quanti credevano in questo successo e in questi 63 punti ripeto sono tanti sono tanti in pochi me compreso sapevamo insomma che con la crescita dei ragazzi avremmo potuto fare un buon campionato però sinceramente siamo andati oltre le aspettative oltre le aspettative anche se ripeto ci siamo allenati per bene tutti quanti non ha non ha mollato un ragazzo eravamo sempre sempre tutti al campo e questo è il premio il premio ripeto per la società per i ragazzi sono sono veramente contento emozionato perché è una è un risultato risperato solitamente la mia ultima domanda di rito è domenica prossima chi affronterete invece voi domenica prossima sarete tranquillamente sul divano a godervi forse la serie A come vi preparate e che cosa avete già in mente per il prossimo anno se eccellenza sarà domenica prossima un impegno mia moglie ha detto mi devi portare al mare tempo permettendo quindi ci rilassiamo un attimo poi è chiaro che vedremo un po' gli sviluppi di questi play out di serie D come andranno come andranno a finire e prepareremo al meglio la prossima stagione sappiamo che qualsiasi categoria andremo ad affrontare dovremo partire in tempo per non fare per non fare brutta figura ma sono convinto che la società si saprà muovere per bene Lo Spinete ha chiuso la stagione superando la polisportiva Fortore domenica le due formazioni si affronteranno per la sfida play out ma a San Bartolomeo in Galdo Andrea Jacovantuno centrocampista dello Spinete successo per 2 a 0 con il Fortore che vi garantisce di disputare il play out proprio in casa del Fortore avete disputato la partita che volevate attenti concentrati e soprattutto concreti sotto porta oggi grande partita da parte di tutti i miei compagni devo fare veramente i complimenti a tutti e speriamo che lì a Fortore faremo la stessa prestazione così porteremo la salvezza a casa percorrendo percorrendo un po' la stagione regolare avete disputato molte partite diciamo tipo questa però i risultati non erano arrivati forse questa vittoria vi ripago un po' di quanto sofferto purtroppo il calcio è fatto di alti e bassi purtroppo tu giochi sempre al massimo e delle volte il risultato è bugiardo invece oggi è dalla nostra parte e ci porterà grande soddisfazione la prossima domenica in casa delle Fortore per disputare questo play out quindi un appello anche ai tifosi che sicuramente vi seguiranno in massa sì speriamo che qualcuno ci seguirà altrimenti in 11 si scende in campo più la panchina ovviamente tutti quanti e sarà una battaglia si giocherà sabato la gara salvezza tra Chieuti e Ururi per i padroni di casa il tecnico Michele Leonbruno allenatore del 4 Torri Chieuti 0 a 0 a Ripalimosani per voi in influente perché già conoscevate il vostro destino a livello di play out sarà contro l'Ururi cerchiamo di dare del nostro meglio in settimana riprendiamo gli allenamenti martedì vediamo che cosa dobbiamo impostare bene la partita insomma ecco spesso si dice ed è la verità che i play out così come i play off possono rappresentare delle competizioni a sé stanti quindi in questi play out che vi appresterete a giocare che cosa ci vuole per salvarvi oltre ovviamente alla vittoria ma ecco essendo una competizione appunto a sé che cosa chiederà ai suoi ragazzi non troppa attenzione una partita come tante altre molta tranquillità in campo concentrati perché ci vuole concentrazione e soprattutto chiedo durante la settimana agli allenamenti che faremo di preparare al meglio la partita perché è importante una stagione intera qualcuno dice che eccellenza e promozione stagione 2018-2019 si sarebbero equivalse a livello di valori si sarebbe assottigliata la differenza fra i due campionati lei che pensa? penso che sia così basti pensare che in eccellenza ci sono delle squadre che addirittura si sono ritirate dal campionato la Leaf prima ritirata poi sembra che abbia finito il campionato la Leaf ha concluso ha partecipato a tutte le parti sì infatti era proprio questo mentre in promozione si è combattuto fino all'ultima partita oggi la dimostrazione cioè non ti regala niente nessuno in vetta i valori si sono rispecchiati nella realtà con le promozioni di Vairano Capriatese e Subiudice quella del Baranello in attesa degli sviluppi dalla Serie D secondo lei? squadre molto competitive impostate bene squadre compatte perché ho visto l'abbiamo presa in campionato con qualcuno ci abbiamo anche pareggiato però la differenza era tanta per cui un ottimo campionato e complimenti agli allenatori e al tutto alla dirigenza dei vincitori del torneo a proposito dell'Ururi l'allenatore mister Caputo per l'Ururi un punto che fa morale al termine della sfida con il con il Trivento poi la salvezza passerà da Chieuti domenica prossima si diciamo che i giochi erano già fatti nel senso che noi sapevamo già che dobbiamo affrontare questa partita a Chieuti però i ragazzi oggi hanno dimostrato ancora una volta il senso di attaccamento alla maglia e hanno disputato una buona gara dando uno sguardo dal suo arrivo ad oggi a quella che è stata la stagione dell'Ururi che voto darebbe alla squadra? Penso che questa squadra al di là dei risultati che non sono arrivati e tantomeno mi sento di additare un voto negativo penso che la sufficienza i ragazzi l'abbiano meritatamente acquisita sul campo come avete visto con tutte le telemoresi che ho sempre seguito e quindi mi prendo tutte le responsabilità e lo dico con massima trasparenza credo che questa squadra meritava molto di più diciamo della classifica al momento attuale che ci troviamo Spareggi Salvezza si sa sono partite particolari come dovrete affrontarla? io penso che con la naturalezza di una squadra che deve sicuramente affrontare una squadra molto coraggiosa dobbiamo essere coraggiosi dobbiamo essere tranquilli e penso di tirar fuori tutto il meglio che nelle ultime gare stiamo facendo vedere un po' su tutti i campi ovviamente è una partita secca non mi sento di dire cosa potrà succedere però penso che qualsiasi risultato penso che sarà una bella partita avviso aperto e credo che questa squadra meriti ampiamente la salvezza categoria da mantenere anche oltre che per la società anche per per il popolo per la gente di Ururi che comunque in casa vi segue sempre numerosa sì certo credo che in questi anni Ururi anche nella sua storia infatti non a caso io ho accettato questa questa diciamo questa partita che ho affrontato insieme a loro a dicembre che sono arrivato proprio perché penso che sia una società gloriosa e dobbiamo portare avanti sicuramente dei progetti migliori e duraturi nel tempo la società penso che è all'altezza per farlo credo che farà il possibile per progettare annate calcistici migliori di questa Nuoto l'H2 e Osport ha preso parte al settimo trofeo Acquaniene la società molisana ha ottenuto il sedicesimo posto su 116 società partecipanti da tutta Italia con 4 medaglie d'oro un argento e un bronzo sempre per il nuoto la Idrosport è stata impegnata domenica con il Memorial Lelio Pallante Tonio Oriente presidente della Idrosport la società di nuoto di Campobasso siete praticamente voi la società organizzatrice da 11 anni a questa parte del Memorial Lelio Pallante siamo qui questa mattina davvero tantissimi ragazzi davvero piccoli quindi questa è la cosa che ci ci balza all'occhio subito si è una manifestazione una mai che è arrivata all'undicesima edizione devo dire che per noi è importantissima perché intanto ci consente di ricordare una persona splendida che abbiamo conosciuto Lelio Pallante con cui abbiamo condiviso l'avvio di questo impianto di questa gestione quindi per noi è una ovviamente una giornata importante intanto per ricordare lui perché lui ha voluto con tutte le sue forze questo impianto e devo dire che noi siamo arrivati al quindicesimo anno di gestione con tante difficoltà ma soprattutto con tante soddisfazioni e la giornata di oggi credo che rappresenti proprio quello perché coinvolge i bambini che sono nati dal 2010 al 2014 senza ombre di dubbio è una delle manifestazioni regionali che coinvolge i bambini più piccoli della regione oggi abbiamo qui anche bambini provenienti anche dal Lazio dei nostri amici del Circo Noto Formia della società M2 e devo dire che in qualche maniera questo contorno ci gratifica di tutti quelli che sono gli sforzi ovviamente non la definiamo una manifestazione agonistica sono i primi passi che avviano questi bambini se vorranno ad un percorso agonistico ma per noi è fondamentale perché ovviamente ci consente di far vedere il nostro movimento un movimento che è concentrato su ben 5 impianti lei ha detto idrosporto campo basso ma non è solo assolutamente campo basso idrosporto è su campo basso nella piscina comunale ma è anche nella piscina comunale di Termoli nella piscina comunale di San Giuliano appunto nella piscina che ci ospita di Frosolone e nella piscina di Agnone sono tutti i bambini che nuotano nei nostri impianti che ovviamente hanno iniziato un percorso di formazione e che li vede qui in queste prime esperienze agonistiche ciclismo il Giro d'Italia e il Giro E toccheranno anche campo basso il 16 maggio il Giro d'Italia attraverserà il Capoluco intorno alle 12 con sosta ufficiale della carovana sempre nello stesso giorno il Capoluco sarà protagonista di un altro grande evento ciclistico il Giro E con partenza alle 9 in Piazza Prefettura si tratta di un giro amatoriale con le bici elettriche che quest'anno ufficialmente percorrerà tutto lo stivale dal 12 maggio al 1 giugno 60 anni di sport per il gruppo sportivo Virtus la società molisana oggi dedita solo all'atletica sabato ospitato il raduno degli ex calciatori che hanno indossato la casacca giallo-blu Laura Pallatino allora tu sei giovane qui di giovani non se ne vedono all'orizzonte è vero questo evento si rivolge ai calciatori che sono stati quindi dai 40 anni in su e parecchi giocatori hanno anche oltre 70 anni però abbiamo scelto i migliori calciatori che la Virtus abbia mai avuto quindi sono tutti presenti e credo sarà un bel divertimento assistere alla partita e parteciparvi senti tuo padre diceva se ci sono i figli c'è continuità io lo dico tante volte quando facciamo anche degli incontri della nostra redazione di Telemolise io credo che sia noi di Telemolise sia voi della Virtus in qualche maniera tutti quanti insieme abbiamo centrato questo obiettivo è vero a parte che credo che tra noi della Virtus e voi ci sia un collegamento perché tu Antonio sei stato alla Virtus e anche molti dei partecipanti del tuo staff insomma conoscono questa società e ne hanno sposato i principi anche voi come noi crediamo molto che i valori vanno condivisi ma soprattutto trasmettendoli ai propri figli quindi poi è quasi naturale il processo ciò che amano i genitori amano anche i figli perché quando si fa qualcosa con passione è come se la si trasmettesse anche geneticamente certamente questo è il primo degli eventi dei quali abbiamo già parlato perché si è stata in trasmissione a Domenica Sport quindi questo è soltanto il primo step di una serie di eventi che ci saranno fino praticamente alla sua giù quindi fino al prossimo mese di novembre sì è vero è giusto che quando si raggiunge un traguardo importante come i 60 anni è giusto e doveroso festeggiarlo questo traguardo e questo è il primo evento il prossimo sarà forse il più significativo ed è una mostra fotografica che si terrà presso l'ex GIL di Campobasso dal 18 maggio giorno in cui avverrà l'inaugurazione fino al primo giugno quindi questo è il primo step e siamo contenti che tutti abbiano risposto in maniera numerosa va bene quindi insomma si va avanti si va avanti e ci sono oltre 20 eventi programmati per tutto l'anno e stiamo cercando di culminare poi con una sueggiù che si correrà il 17 novembre che vestirà l'abito della festa quindi sarà proprio il culmine dei festeggiamenti la nuova pallavolo Campobasso organizzato insieme al comitato provinciale dei carabinieri per oggi una conferenza incontro confronto con gli atleti l'evento si svolgerà la palestra Villa de Capo a partire dalle 16 adesso le grafiche di seconda categoria seconda categoria gironea ventiduesima giornata Cerrese Macchiacodenese 2 a 3 Fornelli Castello Mattese 4 a 2 Indemita Baronello Mandela 1 a 3 Pescolanciano Montenero 4 a 4 Sant'Angelo Limosano Longano 3 a 0 Riposato Rufri Pesenzano 50 Montenero 46 Macchiacodenese 38 Rufri Pesenzano 36 Pescolanciano 31 Fornelli di seguito le altre Pesco 5 a 3 Rufri Pesenzano 5 a 4 5 a 4 Pesco 5 a 4 Pesco 5 a 4